Diciamo che oggi siamo qui ad annunciare... Rispetto a appartenenza, senso della cittadinanza, sono alcune delle parole chiave per interpretare l'educazione civica, una materia che esula la didattica scolastica e dovrebbe regolare il comportamento delle persone in ogni manifestazione della propria esistenza. Sono le regole del concepire il vivere sociale, purtroppo non sempre vengono rispettate. Per promuoverle, l'amministrazione comunale ha organizzato per sabato prossimo la prima giornata cittadina dell'educazione civica, ottenendo una grande adesione da scuole e associazioni, tanto da mobilitare gran parte della città. L'evento è stato presentato nella Sala della Concordia della Residenza Municipale dagli assessori Dimitri Tinti, Barbara Brunori, Cora Fattori, oltre che dal professore Paride Dobloni che ha organizzato il programma. Noi tutti vogliamo una città educata, sempre più educata. Di fatto dal 2019 è stata istituita sulle scuole una legge appropriata, che è la legge 92, grazie alla quale l'educazione civica è entrata nel mondo delle scuole, ma ci sono due articoli all'interno che sottolineano l'esigenza di mettere a punto in rete le scuole, le istituzioni, le associazioni, tutta la città, affinché questo accada, perché più persone siamo a raccontare le esperienze che si fanno e degli esempi positivi, è quello che è il senso di partecipazione e di educazione civica alla città e sicuramente più i giovani, i bambini, ma anche noi adulti, noi per primi, veniamo contagiati nell'essere dei bravi cittadini. Oltre 40 associazioni coinvolte, oltre che tutti i poli scolastici, sia di scuola media ma anche di scuola superiore, e siamo molto contenti di questo, diciamo appunto che con questa prima edizione ci prendiamo l'impegno di svolgerne tante altre, di dare un futuro di educazione a questa città anche attraverso questa promozione di belle iniziative ed esperienze che ci sono all'interno del tessuto. Quest'anno partiamo dai Giardini Amiani con un programma intenso che andrà dalle 3 del pomeriggio fino alle 10 della sera. Un'avventura nella quale vogliamo raccontare alla nostra città Fano che cosa vuol dire essere cittadini e questo è il compito che ho dato alle scuole superiori, medie e alle oltre 40 associazioni che hanno deciso di starci in questa avventura, tutti insieme a raccontare alla nostra città e ai cittadini che vorranno con noi essere presenti, che cosa vuol dire essere cittadini italiani. L'idea era di non fare un convegno vero e proprio, ma di alternare momenti propriamente culturali di contenuto diciamo tecnico tradizionale con breve comunicazioni di una trentina di minuti a momenti anche di natura musicale, passeggiate ambientaliste, camminate adatte per le persone più anziane, insomma attività sportive come la prova con il tiro con l'arco. La serata si concluderà credo in maniera molto degna con l'orchestra sinfonica Rossini la quale ci regalerà un concerto di ottoni.